la cresta del granomeon là c'è la zona dei casottini l'ho posta in mondi pietraie veramente luride e immonde adesso sono ritornato qua in questa zona però rispetto all'altra volta che mi ero fatto tipo il paretone adesso volevo fare il filo di cresta visto che è asciutto ci volevo riprovare con l'asciutto e rifare la cresta vediamo cosa salta fuori questa è leggermente più impegnativa ha un po' più subo e lo dritto ma insomma i blocchi da rimontare ci sono il panorama molto bello già da qua ecco l'alimilus rosa il cervino l'immonda pietraia che poi mi ritoccherà fare il ritorno ma sarà più semplice si annaspa e basta poi con sto caldo vabbè dai, addosso di qua va canalaccio, canalino non mi è nuovo eh mi ricordo quando l'ho fatto con il ghiaccio questo autunno, l'autunno scorso adesso è un'immonda porcaia eh vabbè forse anche meglio così è un po' più facile oddio più facile non lo so però almeno non fa freddo il freddo che ho patito che porcaia ragazze dai però il panorama è bellino eh a parte l'immonda pietraia mi sono infiamato in sto canalino ho abbandonato un pelo il filo di cresta forse era meglio fare la cresta provi vogliamo un po' anche ravanare se no non si è accontente ecco ma adesso in effetti uno sfasciume era meglio fare il filo di cresta adesso la vado a riprendere eccoci qua è già meglio e qua farà tutto sono incurati in una zona un po' non si è accadissima ecco l'ho fatta ragazzo una roccia di merda il culo si stacca tutto oddio cammino qua il sito si fa vertiginosa però per evitare quel canale marcio mi sono fatto anche male e conviene fare questa via qua la via che ho fatto che è stata tragica che frana tutto qua però credo di essere di aver imboccato quello che ricordavo essere il canale finale da mettere in alto vediamo non sembra difficile solo devo procedere con molta cautela perché qua frana tutto si stacca tutto ti resta tutto in mano poi a parte quello andando con cautela il pianino la via si trova a parte qualche franatina qua e là comunque se non sbaglio credo di essere quasi arrivato questo è gli ultimi passaggi un po' verticali e poi dovremmo esserci credo che la vetta si sia proprio qua allora vediamo dovremmo esserci quasi lì c'è la gribola e questa è la spalletta finale wow siamo su ragazzi siamo su l'altra volta ero salito da di là e stavolta sono salito da di qua vabbè ho fatto una via un po' diversa il Granomenon non ha una via il Granomenon va solo da cazzo così sempre in esposizione non è proprio una delle più semplici è un gran casino comunque su cian su adesso vediamo un attimo il panorama e poi dobbiamo scendere al volo mi sa qua c'è la gribola qua potenti dirupi spaventosi sono qua su una guglietta su un vitale qua abbiamo una panorama sul Monte Bianco la Aosta il Gran Comben il Monte Rosa Cervini e Voilà sono un po' spossato perché l'ho fatto in tirata unica non è stato proprio facilissimo stavolta sarà dura scendere perché con la neve almeno ci si seguono le tracce ecco lì il casattino il Nomenon è tutto il bosco fatto arrivo da di là comunque sono qua per questo per far scendere in qualche modo lo troverò e la chiediamo sul Grampa C'è la Fron il Monsher ah si vede bene anche il Monviso eccolo là oggi è molto molto pulito e di là c'è tutto il Piemontane viene tutta la via fatta qui sono sotto la vetta tutta lì c'è un cordino di calata ecco tutta la cresta così fino a quel gendarme dietro tutta la cresta pietraioni tutta quella gola tutta quella pietraia quella scaricata là gigantesca casottini del Nomenon e poi giù bosco tutto in giornata ecco la vetta è lì adesso mi deve inventare una discesa sono salito da di là però lì vedo una corda di calata ho dietro una corda un imbrago e tutto quindi potrei anche utilizzarli adesso vediamo devo comunque puntare là col gendarme più o meno e poi tutta cresta ritroso e poi tutta sfasciumaia vabbè vediamo di scendere pian piano e guadagnare zone un po' più tranquille va perché qua insomma un po' così è cosà gli acciai del tessone sparito non c'è più io mi ricordo quando avevo ragazzo c'era un montone bianco là non c'è più niente è fine quel gacciaio non esiste più pazienza questa è un'annata un po' tremenda le altre impervie vie ci arriviamo verso se si è a tratti un po' più semplici non ancora facilissimi ancora roccioni ma insomma un po' meglio ecco ecco che i simpaticissimi casettini del nome e nonna la sbuca il dolan eccoli qua i casettini là c'è tutta la via fatta al gran nome e nonna guzzissimo ci ha impegnato anche stavolta e dietro la grivola col su gacciaio in agonia che si sta squagliando bene se proseguiamo un attimino eccolo là sbuca il gran con ben e il velan bene ma noi ora scendiamo eccolo là le gran jonas il bianco ciao ciao ciao